Il grande risultato politico ottenuto anche in provincia di Tenamo da parte del Movimento 5 Stelle ha portato ad eleggere in Parlamento anche il giovanissimo ex consigliere comunale Fabio Berardini che dunque diventa l'unico elettro della città di Teramo. Una grande soddisfazione per Berardini che ha annunciato il massimo impegno e sostegno del territorio. Sicuramente sarà importante dare una rappresentanza in Parlamento alla città di Teramo che è stata distrutta dalla vecchia politica, adesso la dobbiamo far rinascere, la dobbiamo far crescere, dobbiamo cercare di risolvere i problemi che ci hanno lasciato, sicuramente ci saranno le elezioni amministrative nel mese di maggio-giugno e quindi noi partiamo dal risultato del 37% ricevuto a Teramo città, sappiamo che sarà difficile avere lo stesso risultato ma presenteremo una squadra di persone vere, persone competenti, persone in gamba perché vogliamo avere il primo sindaco 5 Stelle anche a Teramo. Qual è il primo argomento su cui lei inizierà a lavorare una volta entrata a Roma? Sicuramente faremo un lavoro di squadra insieme ai miei due colleghi Antonio Zennaro e Valentina Corneli per quanto riguarda la ricostruzione, per quanto riguarda anche la messa in sicurezza del bacino del Gran Sasso e dell'Acquedotto in collaborazione ovviamente con la Regione Abruzzo che ovviamente poi aspetteremo di vedere le sorti perché c'è questa altalena di d'Alfonso e non si sa dove andrà a finire e poi in ogni caso si voterà il prossimo anno. Vogliamo parlare con i cittadini, con i comitati, fargli avere una rappresentanza che in questi anni è mancata, risolvere i problemi perché siamo veramente contenti di questo risultato. È stato un risultato fatto con una campagna elettorale tra le persone parlando di programmi, parlando di temi veri e i cittadini ci hanno dato un bel consenso, un bel mandato e lavoreremo insieme a loro per rispettarlo. Di Maio l'ha già sentito? Di Maio ancora no, però sicuramente andremo a Roma nei prossimi giorni per incontrare tutta la squadra parlamentare. Un'imponente frana di massi rocciosi si è abbattuta stamane sulla Provinciale 42 in Contrada Santa Lucia. Le rocce di grandi dimensioni sono scivolate giù da un costone della collina sovrastante la strada provinciale, che dalle frazioni di Altavilla, Villa Vallucci e San Giorgio porta a Montonervo umano comune del Terramano. Per fortuna in quel momento la carreggiata era sgombra, ma è solo per un caso fortuito che non ci siano finite delle macchine sotto l'imponente pioggia di pietre. Gli enormi massi rocciosi hanno invaso tutta la strada, rendendo impossibile il transito. Per questo motivo gli operai chiamati dalla provincia hanno chiuso la via. Purtroppo non è la prima volta che nella zona si registra un evento franoso così importante, ed è proprio per il precedente che risale a circa una decina di anni fa che si era optato per puntellare il costone con dei tiranti d'acciaio, risultati però inutili e anzi venuti giù con i massi rotolanti. Il pericolo ora che vengano giù dalla collina anche gli altri macigni è rimasti in bilico, visto che il fronte interessato è ampio un centinaio di metri. Una situazione che torna nuovamente a danneggiare i residenti di quella parte della montagna, che ora per scendere a valle dovranno percorrere un'altra strada, allungando così di diversi chilometri il percorso, soprattutto se si pensa che ci vorranno con ogni probabilità diversi mesi per mettere in sicurezza e riaprire la strada provinciale. Le forti e abbondanti piogge degli ultimi giorni che hanno interessato la città di Teramo ha portato ad acutizzare ancora di più la delicata situazione dell'argile del fiume Tordino che passa sotto all'8.0 in contrada ponte a catena. La difficile condizione sta creando seri problemi anche alla percorribilità causata soprattutto da una tavica carenza di manutenzione del manto d'asfalto. La piena del fiume alimentata da piogge nevicate infatti è eroso in modo allarmante la scarpata al ridosso della strada, nel suo tratto iniziale subito dopo il ponte a catena che segna l'uscita dall'abitato di Teramo. Un'erosione che sta interessando anche la base dei pilastri che sorreggono alla carreggiata sovrastante. Sul posto sono intervenuti per un sopralluogo la polizia municipale di Teramo e personale dell'ANAS, l'ente proprietario dell'8.0. In comune si è valutata anche l'opzione della chiusura della strada ma per il momento non è stata emessa alcuna ordinanza di tal senso. Ma il motivo principale della mancata chiusura della strada potrebbe essere la necessità di salvaguardare il percorso dei mezzi della termoambiente che in questi giorni non possono utilizzare il guado sul Tordino all'altezza di Villa Pavone perché sommerso dal fiume in piena e devono per forza passare dalla strada di Carapollo. Se questa fosse chiusa i mezzi Team dovrebbero fare un giro lunghissimo per arrivare in città, compreso ovviamente i residenti di quella zona. Archiviata la fase delle elezioni politiche, ora i partiti hanno iniziato il lavoro per arrivare pronti alle prossime amministrative, in programma con ogni probabilità nel mese di giugno. A Teramo è già partito il totonome per individuare il prossimo sindaco della città. Il Movimento 5 Stelle è forte del risultato ottenuto alle politiche ancora di più di quello locale e presto presenterà alla città il nome del proprio candidato, mentre centrodestra e centrosinistra dovranno prima fare chiarezza all'interno delle proprie coalizioni per essere pronti per giugno. Comune capoluogo, comune importante che viene da questa grossa frattura nel centrodestra, in maniera particolare frattura interna a Forza Italia e quindi bisogna cercare di ricostruire ove possibile un centrodestra unito, però ripeto con tre soggetti, con tre aggettivi, centrodestra unito, rinnovato e con proposte nuove. Credo che non si possa più andare avanti a veti reciproci, non intesi per noi di Fratelli d'Italia, ma leggo alcune cose che vengono dichiarate da esponenti di Forza Italia. Siamo pronti a metterci a tavolino, però ove questo non sia possibile, noi avremo comunque la nostra espressione amministrativa, se sarà possibile un centrodestra rinnovato, unito, ma anche con esperienze e competenze nuove da segnare il cambio di passo, allora ci saremo. Se sono veti o vecchie abitudini andremo da soli. Non ci sono nomi, tutti gli scritti sono validi, tutte le persone sono valide, ma la cosa di andare da soli non significa solo se non si troverà l'accordo, noi troveremo l'accordo con qualche civica e comunque avremo anche noi la nostra espressione. Se poi sul tavolo ho letto di alcune, è uscita la Lega, è uscito Futuro In, è uscito anche un'altra associazione chiedendo di discutere, noi siamo pronti a discutere, ma non a discutere su vecchie abitudini, dobbiamo proporre un forte rinnovamento, un completo distacco da quello che è stata l'ultima amministrazione e allora siamo pronti a discutere, dobbiamo offrire ai terramani un prodotto credibile, minestre riscaldate non ci interessa. Un dato più che positiva per il Movimento 5 Stelle, secondo lei l'amministrativa rappresenterà un importante confronto con la città di Teramo? Sicuramente hanno avuto un grande successo politico, se poi lo stesso successo lo calano anche sulle amministrative, sono più che competitivi, però non conosco il loro approccio, certo una cosa è prendere i voti alle politiche, una cosa è prendere i voti alle amministrative dove corrono i singoli candidati, però ad oggi sono la forza maggiore politicamente a Teramo, quindi dovremo confrontarci con tutti, con il centro-sinistra, con i grillini ma scusatemi la battuta, la cosa più difficile è confrontarsi all'interno del centro-destra in questo momento. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Teramo, Simone Giuseppe Santoleri rispettivamente figlio ed ex marito della pittrice Renata Rapposelli, accusati in relazione alla morte della donna di concorso in omicidio volontario e sottrazione di cadavere. L'interrogatorio è avvenuto stamani nel carcere di Castrogno dove i due indagati sono agli arresti. Sono in due alle separati e sono separati, fino ad oggi sono stati separati ed era anche normale dato l'interrogatorio di garanzia, è possibile che saranno messi insieme in questi giorni. Chi ha trovato il riprovato? Giuseppe, sicuramente Giuseppe il papà, anche perché lui non sta molto bene, quindi il regime carcerario è incompatibile con la sua situazione, quindi faremo subito qualcosa per cercare di farlo trasferire in una struttura. San Giuseppe di Ascoli dove è stato fino a poco tempo fa. Adesso facciamo un riesame verso l'ordinanza per ottenere una scarcerazione al Tribunale delle Libertà. Per quello che possono essere tranquilli sono tranquilli, rimangono sulle loro posizioni e quindi sono tranquilli per quanto riguarda il merito, però comunque sono in carcere quindi non affrontano una situazione bella, non sono abituati a questo tipo di detenzione. Timone è anche molto provato, noi ovviamente per quanto riguarda l'ordinanza l'abbiamo letta attentamente in questi giorni, riteniamo che sia un'ordinanza abbastanza carente sotto il profilo sia logico-giuridico, della ricostruzione degli eventi, ma anche nell'incastrare a forza determinati elementi raccolti nel corso delle indagini, per cui adesso ci stiamo consultando con i nostri consulenti per quanto riguarda la parte tecnica dell'ordinanza, quindi la questione delle celle telefoniche ed altro che però, diciamo, ci danno già alla prima lettura, ci sembrano abbastanza contraddittorie. Poi il resto è basato tutto su un racconto, diciamo una ricostruzione che noi riteniamo abbastanza suggestiva di questo episodio e che quindi impugneremo di fronte al Tribunale degli Esami nei tempi di legge, quindi entro dieci giorni da quando ci verrà comunicato il deposito dell'ordinanza. Ovviamente sono molto provati, attualmente devo dire ho trovato il mio assistito molto più provato rispetto all'altro giorno, è una situazione ovviamente, anche se noi, come già stato detto, le avevamo da sempre preavvisati e preannunciati che questo sviluppo si sarebbe potuto verificare. Certo, devo dire la verità, in questo momento non ce lo aspettavamo un po' nemmeno noi, anche perché gli elementi investigativi posti alla base dell'ordinanza di custodia cautelare erano elementi già ben noti da parecchio tempo, sia ai giornali che alla stampa che alla difesa di riflesso, quindi non riteniamo che ci sia un elemento nuovo. Si è detto molto nei giornali in questi giorni, ma evidentemente non è stata letta bene l'ordinanza, perché tante cose che sono state dette nell'ordinanza non esistono, tipo per esempio se parlavo del terriccio, il GIP della macchina che avrebbero ritrovato, ma in realtà non è questo elemento, il GIP lo esclude in quanto dice che ad oggi non c'è stato alcun risultato da parte dei RIS, il resto su altre questioni, però insomma quindi c'è l'esigenza cautelare che è quella che più un po' ci lascia perplessi, che sarebbe quella per Simone del pericolo che se lasciato libero potrebbe intimidere testimoni mediante querele. Cioè, voglio dire, se un indagato ritiene che una persona dica in televisione determinate cose a suo sfavore, calunniose e diffamatorie, è il suo diritto a denunciarla, quindi non vediamo quali siano intimidazioni. Volevo solo per concludere far rilevare che ad oggi non sappiamo ancora, e lo dice lo stesso GIP nell'ordinanza, quale sia la causa della morte della signora Rapposelli. Le ultime abbondanti piogge che hanno interessato la città di Teramo hanno portato ad aggravare ancora di più almeno due diversi punti al di sotto dell'8.0 della Teramo Mare, entrambi legati all'erosione dell'argi del fiume Tordino. Infatti, dopo Carapollo, un'altra situazione potrebbe mettere in pericolo la stabilità dei pilastri che sorreggono a Teramo Mare. Stiamo parlando dello svincolo di Cartecchio, dove lì anni fa esisteva un ponticello che collegava quella zona alla Gammarana, passaggio però poi spazzato via dalla forza dell'acqua e che col passare del tempo l'erosione sta portando alla luce le fondamenta del sovrastante cavalcavia. Una situazione su cui di certo non serve un esperto per capire le condizioni per il ponticello che sono quasi irrecuperabili, così come quelli di molti altri collegamenti oramai datati, per i quali non sono state fatte opere di manutenzione né di messa in sicurezza. Il ponte dello svincolo di Cartecchio è sempre stato utilizzato dai ciclisti dai numerosi usufluttuari dei terreni. Una situazione che di certo preoccupa, visto che le piene del fiume creano una sorta di laghetto, oltre al letto del Tordino, proprio sotto il raccordo autostradale. I piloni della Terra o Mare sono lì, con tutta la loro imponenza, ma nonostante questo ad oggi nessuno è intervenuto per la messa in sicurezza, sebbene questa situazione sia stata segnalata diverse volte da chi frequenta quella parte della città. La ricostruzione terramana con il passare del tempo si sta trasformando in un vero e proprio dramma per le migliaia di persone che ancora oggi non possono rientrare a casa. Una situazione di stallo totale, soprattutto se si parla di quella leggera, e cioè degli edifici di categoria B. Una vicenda difficile su cui gli amministratori di condominio in questo ultimo anno si sono trasformati in dei veri e propri cuscinetti, tra i residenti che vogliono tornare a casa e gli organi competenti, che ad oggi non danno ancora nessuna risposta. Sì, io e i miei colleghi, tutti di Teramo, ma anche dei colleghi che sono nella costa, abbiamo una situazione di vera difficoltà, perché siamo solo l'interfaccia tra queste povere persone che hanno perso veramente tutto, hanno perso la casa, gli affetti, la quotidianità, che si trovano spostati, loro malgrado, o negli alberghi o a casa degli amici, o chi è stato più fortunato ha trovato degli alloggi in affitto. La situazione è veramente disastrosa, perché noi non abbiamo un referente che sia serio e con cui possiamo interloquire. Noi abbiamo solamente delle vaghe risposte che riusciamo a prendere da esponenti o politici o d'altro e che ripassiamo questi poveri condomini che si trovano sempre più emarginati in questa situazione. Noi cerchiamo di dare delle semplici risposte che possono essere appunto dal come fare determinate pratiche, da come risolvere determinati problemi burocratici, ma la domanda più frequente è sempre solo quella, cioè quando ci sarà una ricostruzione a Teramo, quando noi possiamo vedere qualcosa che si muove, perché il problema è proprio questo, che non si muove nulla, è tutto fermo, l'ufficio della ricostruzione il più delle volte non riesce a darci queste risposte e non vediamo i nostri progetti che i nostri professionisti, loro malgrado, sono riusciti ad impiantare, non li vediamo passare, non li vediamo andare oltre quello che è la semplice presentazione alla piattaforma Mood, quindi diciamo un momento veramente duro dopo tanti tanti mesi. Una situazione drammatica visto e considerato che sono migliaia ancora i terramani che sono fuori dalla città. Sì, la costa è ancora piena di tutti i nostri concittadini, ma anche quelli che sono qui di Teramo si trovano come dire collocati in case di fortuna, che possono essere degli alloggi di amici, parenti, oppure case prese in affitto, ma che sono comunque contratti momentanei, perché tutti sanno che sono delle persone che sono in autonoma collocazione. Per cercare di essere il più vicini possibile ai cittadini terramani, lei ha creato proprio una pagina Facebook ad hoc per rispondere a chi ha questi problemi? Sì, purtroppo chi mi conosce, tutti quelli che mi conoscono i miei condomini, sanno che io non ho mai avuto una pagina Facebook. Invece in questi giorni, proprio ieri, abbiamo avuto, come dire, per cercare di essere più vicini ai nostri condomini, abbiamo fatto questo, abbiamo aperto una pagina Facebook dove cerchiamo di voler comunicare con i nostri interrogatori su quelle che sono le difficoltà di questa ricostruzione post terremoto. E quindi abbiamo invitato e abbiamo già avuto tantissime richieste di condomini che vogliono sapere, anche i condomini che non sono legati a me, ma ad altri miei colleghi, che vogliono avere delle risposte. Per questo c'è questa pagina Facebook che tutti possono andare a contattare o per contattarci personalmente, per avere delle risposte e per poter riuscire a dare quelle che abbiamo o comunque per avere delle informazioni. Ecco, ci saranno informazioni sulla manifestazione che ci sarà la prossima settimana dove appunto manifesteremo il nostro disagio per questa ricostruzione che ancora non inizia a partire. Franco Fracassa, per cercare di rilanciare questa situazione di totale stallo insieme all'Associazione Robin Hood siete pronti a scendere in piazza? Sì, questa è un'altra iniziativa insieme a Robin Hood, insieme a Pasquale, che è molto attento alle problematiche della gente, appunto perché vogliamo che questa cosa non rimangi nel dimenticatorio. Abbiamo avuto delle risposte maldestre da parte dell'assessore Mazzocca che ha difeso questo ufficio portando dei dati e portando a conoscenza delle persone delle bugie. Io ho avuto rispetto fino al 4, domenica 4 perché si votava e quindi non era giusto entrare a dare delle risposte politiche, ma oggi possiamo dire a gran voce che noi siamo stufi di bugie e quindi insieme a Robin Hood organizziamo questa manifestazione dove invitiamo tutti, invitiamo dai cittadini, invitiamo i liberi professionisti, amministratori di condominio, a quelle persone che vivono in albergo e non ce la fanno più perché è una vita non normale, va bene una settimana ma non un anno e soprattutto invitiamo i politici, i politici, tutte quelle persone che andranno a Roma a rappresentarci, quelle persone che rappresentano il territorio a prescindere il colore politico perché noi stiamo parlando di un'argomentazione che non può e non deve avere colore politico. Noi vogliamo bene a Teramo, noi vogliamo bene alla provincia di Teramo e per questo dobbiamo insieme risolvere questo problema. Una situazione di assoluto stallo visto che è considerato che in più di un anno sono solamente 4 i cantiere che sono partiti a Teramo? Sì, sono 4 pratiche a decreto a differenza delle marche dove praticamente ne sono 340. questo chiaramente può immaginare che è una differenzazione economica che il territorio ha, le marche 40 milioni e noi sulle 300 mila euro, quindi difficoltà per le ditte, difficoltà per i liberi professionisti ma soprattutto appunto non parte questa ricostruzione. Noi non vogliamo superare le marche ma neanche possiamo avere questo step di differenza, si utilizza la stessa normativa, si utilizza lo stesso MUDE, si utilizzano gli stessi strumenti, c'è qualcosa che non va. Noi non vogliamo superare le marche ma nessuno,